Passa a Catanzaro Lido contro lo Sporting nell'anticipo della undicesima giornata del campionato di prima categoria Girone C. Il più classico dei risultati, il 2-0, è maturato nel secondo tempo con le reti segnate a metà proprio da Bordino e sul finire da Pirò. Una vittoria abbastanza tranquilla, quella degli ospiti, che ha consentito proprio alla squadra del Presidente Lapiana di riscattarci per la battuta di arresto avuta domenica scorsa in casa contro il Real Mileto. Mentre per la squadra di casa si è trattato di una sconfitta dopo le due vittorie consecutive con Chiaravalle e Soverato Davoli che avevano un pochettino acceso alle ambizioni, alle speranze di poter raggiungere quantomeno la zona play-out. Con questa sconfitta probabilmente i marinari dicono quasi addio alla prima categoria attraverso una retrocessione diretta. Solo un miracolo in queste ultime quattro partite che rimangono da qui alla fine del campionato potrà consentire loro di arrivare davvero ad una posizione che possa garantire almeno la disputa appunto del play-out anche se bisognerà giocarla sicuramente in campo esterno e contro la quintultima classificata che a questo punto avrebbe attualmente addirittura anche più dei dieci punti che servono per potersi salvare. Quindi una squadra di casa che si è svegliata un po' troppo tardi ha avuto anche oggi pochissime occasioni per poter cercare di ribaltare la partita diciamolo subito. La partita è stata vinta quasi sicuramente meritatamente dalla squadra del Borge che sia nel primo tempo che nel secondo tempo ha avuto diverse occasioni che poi sono culminate con i gol appunto che abbiamo raccontato. Una sola occasione possiamo dirla per la squadra di casa con l'ex Simone Mascheri che proprio al 45esimo, anzi al 47esimo per essere più precisi ha sbagliato la possibilità del pareggio. Ma anche quello probabilmente sarebbe servito a poco perché se per il Borge si può parlare di un campionato con alti e bassi ma che alla fine ha consentito alla squadra borgese di poter tranquillamente restare a centro classifica e di non avere mai problemi di bassa classifica invece per la squadra dello Sporting si è trattato di un campionato triste che era partito con ben altre ambizioni e che invece a questo punto quasi certamente non ce ne vogliono gli amici di Catanzaro Lido dovrà concludersi con l'abbandono appunto della prima categoria. Abbiamo già detto che la squadra del Borge ha meritato e che sicuramente nel primo tempo ci potevano essere anche altri gol come quelli che ha sbagliato più di una volta sia Mellagge che Passafaro che potevano sicuramente mettere in condizione la squadra di Fioretti di poter vincere prima la partita. D'altra parte tutto è bene quel che finisce bene proprio con i due gol nella seconda parte che consentono proprio alla Borge di tornare vittorioso ancora una volta da una partita in trasferta.